Sei giorni studiamo, abbiamo finito la settimana in maniera positiva perché nessuno si è fatto male se non un piccolo, un trattempo, zona, gli altri, nessun problema e questa è la cosa che conta ora. Abbiamo messo questa partitella, comunque, ripeto, per il programma mio non ce l'avrei nemmeno messa perché è chiaro c'è un carico di lavoro enorme, però hai visto che ho fatto questi 50 minuti senza nessun problema, dai va bene, va bene così. Numero sufficiente siamo di già, se ci si mette qualche altro sassetto è ancora meglio. Un sabato di luglio in questa temperatura, a prendere una semplice scappatura tra di noi, tutta questa gente, non so quanti erano, ma comunque erano tanti. E' bello, è bello, è bello, è l'ennesima dimostrazione dell'amore, hanno perso la squadra, il pubblico di Arezzo. Come voi ben sapete, io ripeto quello che mi dice il direttore, fino a detto la devo completare, la completerò a giorni, quindi non so neanche cosa devi completare. Probabilmente qualcosa in attacco perché l'avrei visto in attacco, però non so dirti altro, sicuramente uno o due pezzi ancora mancano l'appello. C'è una piccola novità, anche nel senso che siamo stati convocati i mantelini in comune dal sindaco e dagli assessori, andranno i tecnici con il sabato di luglio e il ministro D'Aregato a parlare. Ci hanno convocato, probabilmente ci daranno delle indicazioni ulteriori su come proseguire questo viaggio intrapreso nel discorso dello stadio. Qui saremo un po' più precisi dopo che abbiamo fatto l'incontro.